Se avete un acquario bello grosso e volete ricreare un biotopo sudamericano, quale migliore acquisto di pesci cardinali, un ben banco di 15 esemplari, 4 scalari e alcuni ancistrus? Questa è la combinazione perfetta per popolare la tua vasca con biotopo amazzonico. Questa è la vasca che ho ricreato io e proprio l'ambiente perfetto. Ho voluto ricreare il tema mettendo anche delle piante sudamericane, quindi questo è quello che ritrovereste in un angolo del rio delle Amazzoni.